Il primo video Ma che ragazzi ha raggiunto di te? Ah non lo so Gennaro Quale è il problema? Il problema è che qua di solito non vedi a noi tu Ma poi ci allargò un giro qui E di solito la fine ha un altro prezzo C'è un po' Perché mi la vuoi regalare? Voglio dire che fai tu se non ti paga oggi Voglio proprio vedere Se hai detto che viene, viene Su tre mesi che ci prendi poco, tre mesi, la settimana, dieci giorni, ha chiuso, ha chiuso e sparito e ha chiuso. Non è facile portare avanti un'attività, ragazzi. Ti vogliamo fare una cazzo di sorpresa? Ma ci vogliamo fare una cazzo di sorpresa, ti ha perso su un bacca per l'aria. Se il Gli ha creato di te diverso, è perché devi restare a 10.000 km da mia c***a! Il pilota, che nel passato aveva già mostrato problemi, ha perduto il controllo dell'aria per un alimento subito e ha crashato. Chiedere la tua madre? La mamma non c'è. E dove è andata? Che ne so io dove è andata. Guidino, non è possibile che tu non lo sappia. Invece così non so davvero dov'è, se lo sapessi te lo direi. La mamma non c'è. La mamma non c'è.